Appena pochi giorni fa l'ex concorrente del grande fratello Greta Rossetti ha aperto su instagram il box delle domande per poter rispondere ad alcune curiosità dei suoi numerosissimi fan che l'hanno supportata a pieno durante la sua avventura all'interno della casa del reality show condotto da Alfonso Signorini dove peraltro è riuscita anche a trovare l'amore la storia d'amore con Sergio Dottavi ad oggi procede a gonfie vele Greta Rossetti a chi le ha chiesto se la love story fuori dalla casa del gf era uguale a come se lo immaginava ha risposto molto meglio di come me lo immaginavo siamo due caratteri completamente diversi ma ci compensiamo molto siamo molto felici insieme Greta Rossetti all'interno della casa del grande fratello ha inoltre instaurato delle bellissime amicizie nella casa ha legato molto con la coppia composta da Anito Livieri e Alessio Falsone ma anche con Perla Vatiero e Letizia Pedris parlando di Perla e Letizia Greta ha affermato con loro ho vissuto diversi momenti belli sono stato il mio punto di riferimento nella casa di CineCittà